Il Ministro Di Maio ha detto che aspira una soluzione a livello europeo sulla vendita delle armi e per il momento l'Italia non firmerà nuove forniture e valuterà quelle già in essere. In realtà il Ministro degli Esteri potrebbe interrompere nel giro di un mese il trasferimento di armi alla Turchia? Io trovo molto insoddisfacente e inadeguata la risposta sia del Ministro degli Esteri italiana che dell'Unione Europea tutta. Se vediamo la posizione dell'Europa di ieri è un po' un invito a non vendere armi alla Turchia, di questo stiamo parlando. Io credo che il governo italiano deve immediatamente interrompere ogni relazione politica, diplomatica e commerciale con Erdogan. È così che un paese diventa autorevole nel Mediterraneo, è così un paese che si mette di mezzo a un genocidio che è in atto nel nord della Siria, dove Erdogan sta facendo pulizia etnica dei kurdi e sta per attaccare una delle città simbolo della democrazia che è Kobane, dove c'è un'esperienza di autodeterminazione, di autogoverno, di democrazia che mette insieme donne e uomini. Io ho conosciuto quella gente, conosco quei territori, so perfettamente che significa. Ed è gravissimo che i paesi occidentali della Nato, Trump in testa, abbiano prima utilizzato i kurdi per sconfiggere l'Isis e poi stanno lasciando i kurdi da solo al loro destino, si stanno liberando prigionieri dell'Isis per colpa di questo disimpegno da parte dei governi occidentali. L'Europa faccia sentire che esiste, batta un colpo e non si faccia ricattare da Erdogan che dice che aprirà il muro per far passare milioni di rifugiati. Erdogan fa parte della Nato, quindi noi dobbiamo capire che Europa stiamo parlando, che autorevolezza abbiamo e sinceramente la posizione del governo italiano e del ministro degli esteri mi sembra veramente molto molto flebile, che non produrrà alcun effetto e quindi chi assume posizioni di inerzia si rende responsabile di un genocidio e si sta macchiando le mani di sangue e come sempre, come l'abbiamo fatto per le tragedie dei migranti del Mediterraneo, la città di Napoli non starà a guardare, farà sentire la sua voce e diremo con chiarezza che i responsabili, chiaramente Erdogan di quello che sta accadendo, ma i responsabili diventano anche quelli che lo potrebbero fermare e che non stanno facendo nulla per farlo.